Vi dico delle emoji? Voi mi dite come le usate? Mi piace, due generazioni a confronto. Vai! Faccina è quella che c'è il sorriso ma al contrario. Situazione triste tipo si è rotta la macchina. Faccina. Che gioia. Ho voglia di fare sesso. Non credo che dica questo. Perché? Perché? Quella lì è un po' come dire già già. Ah ma Andrino. Prendi un po' tu ciò che desideri. Ok? Penso che non ci capiremmo comunque in chat. No, pensa gli mandi a facci la riportata. Cioè è un attimo che ti arriva sotto casa questo. Credici con Nicolò Dedevitis. Una produzione One Podcast per Iliad. Ciao ragazzi benvenuti a Credici il podcast di Iliad in cui confrontiamo la realtà con le aspettative create dai social che non sempre sono così trasparenti come lasciano credere e spesso possono nascondere qualche delusione. Oppure anche grandi sorprese chissà. Sono qui in questa puntata con Guglielmo Scilla e Cecilia Cantarano. Come state ragazzi? Benvenuti. Bene tutto a posto. Molto molto bene. Guglielmo tu hai iniziato su YouTube insomma uno dei primi. Sì 15 anni fa. Sto con il respiratore. Sai quanti anni avevo? 15 anni fa. Ma non mi interessa. Perfetto. Non te lo dico. Proprio non te l'ho mai chiesto. C'hai fatto un calcolo veloce. Tu ne avevi 10. Sì. Ne ho 24. Sì può essere. Ne avevi 9. Mamma mia Cecilia quanto. Già non ero contento. Di stare con me. Adesso ancora meno. No sì. Continuo a svegliarmi ogni giorno sul web e chiedermi come possa accadere questo miracolo. Perché sei bravo. È l'ultimo complimento che io farò. Anche il primo ti volevo dire. Forse è il primo. Tenilo fissato nel cuore. Cecilia invece tu che hai iniziato da quanto? Beh 48 ore l'avremmo sfiorato ormai. Però entrambi abbiamo secondo me una abbastanza una come dire una visione secondo me per quanto ci sia un enorme gap di età simile. Siamo pronti? Cominciamo? Vai. Parla di cannone. Sì sì e stamos. Oggi parliamo delle differenze tra la versione patinata della vita che condividiamo online e la vita reale. Quella vita normalissima che viviamo tutti ma che per vari motivi teniamo privata. Parleremo della ricerca della perfezione, di lifestyle e di linguaggio e alla fine faremo una classifica degli argomenti che secondo voi regalano più fregature. Allora il primo argomento che vorrei affrontare con voi è la perfezione a tutti i costi. Perché diciamo sui social c'è o c'era, vogliamo capire anche questa cosa perché secondo me è più una cosa del passato fortunatamente, c'era la ricerca della perfezione. Come la vedete? Qualsiasi cosa venga postata online è finta. No è controllata. Sì è selezionata. Devi registrarla, guardarla, montarla, decidere quando postarla. Anche se tu facessi e dicessi tutto quello che tu pensi, questo tipo di passaggi rende già arte fatto. È una forma di filtro. Il motivo per cui ho voluto voi due qua è proprio perché secondo me siete due che non c'entrano niente con questa cosa. Siete molto naturali. Io sono felice che tu ci hai chiamati perché ci hai chiamato me. Lui è un amico tuo. Sono molto contenta di essere considerata in questa categoria di persone che un pochino cercano di andare contro tendenza perché leggo i commenti delle bambine magari di 15 anni. Io non sarò mai così. Io faccio schifo. Ogni volta scrivo dei messaggi super mortificanti per me. Che senso mortificante? Vorrei tanto essere te. No fidati, non ti conviene. Guarda, è una storiaccia. Ma non so così. Tra l'altro non sono manco divertente. Mi distruggo perché mi dispiace che loro mi idealizzino troppo e pensino che non va bene come sono, vorrebbero essere come me, quando in realtà siamo tutti delle macchiette, delle cose un po' così accroccate. Il social ti aiuta molto a fare questo processo di idealizzazione. Quante persone idealizziamo sui social e poi quando le incontri ti viene un colpo perché non per l'estetica. È proprio strana come situazione. Cioè io non ti conosco ma so tutto di te, so come ti comporti, so cosa faresti in una determinata situazione ma non so chi sei e quando ti incontro tu i momenti che avevi selezionato della tua vita non corrispondono con poi tutto il resto dei momenti della tua vita. Oltre i social diciamo che c'è una vita. Sì, capito. Sì, ma infatti bisogna anche normalizzare questa roba secondo me che sai quando dice non si è fermato a fare la foto. È il più simpatico sui social? Sì, sì, sì. No, dal vivo. Stasera magari c'ho i cavoli miei. Sì, a me uno scrisse una roba. Ero uscito da un concerto e questi ragazzi arrivano e fanno mi dai un passaggio a casa? Erano tre ragazzi, era sera. Chi te conosce? Con tutto l'amore. Chi te conosce è, diciamo, bella edulcorata. No, sinceramente, ma per la mia sicurezza, ma non so chi sei. Tu gli hai semplicemente detto credici. Sì, sì, sì. Aspetta, questa cosa però che cosa ha scaturito? Ha scaturito che io... Guarda questa, è così simpatica sui social, poi non c'è da manco un passaggio. Bravissimo. Si è rifiutata di... E alcuni hanno scritto, vabbè, fratello, sei carino e gentile. Ma poi io le faccio queste cose, ti giuro, forse è stata una situazione diversa, ma era sera, nel parcheggio... Ma tu ti stai giustificando sul fatto che non hai dato? No, no, però ti giuro, io sono people pleaser, quindi io faccio tutto. Dico sempre sì, sono super gentile, veramente... Lei neanche vuole venire qua, solo perché glielo ho chiesto. No, io me l'hai chiesto, ho detto pure lo che gli dico di no. Però mi piace essere gentile, proprio nella mia natura, quindi dire no, già per me è proprio un'impresa titanica. Poi mi mortifichi online, ma che devo fare? Certo, sali a casa, vieni, sali da tutti, tu puoi dormire nel mio letto, va bene caro? Qui sono i miei vestiti. Ho capito cosa... Nel senso, non ti conosco, perché da me pretendi questa cosa? Perché pensi di conoscermi a uno sconosciuto e non l'avresti mai chiesto. Voi come vi rapportate con i social? Allora io cerco di... Perché no, magari per alcuni adesso se non usano il filtro sulla determinata foto, cioè la situazione è un po' sfuggita di mano magari, no? Quindi o usano il filtro o non postano, non la pubblicano. Entrambi mostriamo aspetti molto imperfetti, cioè ci piace farci vedere sul divano, ci piace farci vedere... Però adesso è così, no? Però è molto controllato, perché il vero schifo non lo faccio vedere. Ah, quindi pensa che succede offline nel senso. Cioè c'è molto di peggio, nel senso, se le persone pensano che la versione struccata sul divano sia la cosa peggiore che posso fare... Stasile, no? No, 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 possiamo fare anche più schifo. Io passo da foto in cui sembro la cugina di Fiona e non me ne preoccupo, ma minimamente la posto con i filtri che deformano il viso, anzi, a me piace questa cosa. Sì, quello di che sembri Sid. Un alieno? Sì, sembro Sid. E poi la gente scrive, ma sei tanto carina, ma lei va questo filtro... Beh, allora, intanto grazie. Ma io, tra l'altro, lo utilizzo perché voglio che ti concentri su quello che sto dicendo. C'è un problema, secondo me, importante, che tante volte metti un video e stai parlando di una cosa molto importante, qualsiasi estasia, che io adesso non mi viene in mente una cosa importante che ho mai detto in vita mia, però i commenti sempre... Ma hai rifatto i denti? Ma che te frega? Ma che c'entra? Che c'entra? Sto parlando di altro, quindi cerco sempre di spostare il fulcro sul contenuto del video e non su, insomma, il mio aspetto. Perciò deformarmi sicuramente aiuta moltissimo. Nei post, invece, mi capita di modificare le foto. Tu lo modifichi le foto? Sì. Ok, ho fatto... Ma non c'è niente di fare, ragazzi, nel dire se uno modifica o non modifica le foto. Io non sono uno che usa tanto i filtri per il semplice fatto che io non posto tante foto. Ah beh, tu sei la tua cosa, sono stati video da sempre, quindi... Sì, no, non lo so, però mi sento... cioè mi imbarazzo un pochino postare la foto. Ma perché magari non sai le pose, giusto? No, ma non sai... Tu non li usi, i filtri. No, manco le pose. Zero. Sì, no, infatti tu... Ma no, è rito. Sembra le foto che mandi ai parenti, tu, sul gruppo di famiglia. No, io... La più genuina. Non lo so, nel senso, nel mio caso mi è capitato in passato magari di usare dei filtri perché era illuminata male la faccia e quindi l'ho illuminata diversamente, ma io non mi considererei uno che usa filtri. Ok. Però invece quelli che levano le occhiaie e la piallatura... No, ok, questo no, un po' tumaccio. Quelli che si allungano le gambe e quei cose di... No, vabbè, aspetta, attenzione. Però fermi. Però io non giudichi che lo fanno, mi dispiace un sacco. Esatto, brava, brava. Sì, sì, dopo le mazzate è il mio primo brava da Guglielmo in tutta la mia vita. Però esistono tanti altri modi per uscire bene. Banalmente la luce ti salva. Esatto. Allora ragazzi, secondo trend che è il lifestyle con il turbo, perché sui social... Anche le attività che facciamo sono sempre fighe, location pazzesche. Ci lanciamo in avventure sportive, come se fossimo degli atleti pluripremiati. Insomma, facciamo solo esperienze super cool. Ma ovviamente non possiamo nulla di quando magari siamo sul divano. Vi rivedete in questa riflessione? No, io mi vedo nell'esatto opposto. No, nell'atleta no. No, guarda, nell'atleta non mi ci vedo manco col binocolo, però. Per tutto il resto del discorso io mi vedo completamente l'opposto. Io racconto tutta la parte della mia vita di quotidianità, momenti... Di semplicità. Ho preso una multa. Ho rossicato perché ho parcheggiato male. Nel senso racconto gli aspetti molto più quotidiani. Mi rendo conto che a volte la mia vita, anzi, sembra molto più moscia di quanto in realtà non sia. Io ho un bel gruppo di amici, mo' vita, mi trasferisco spesso, cambio casa spesso, mi muovo tantissimo. Ma per me la mia storia è io sul treno, poi non faccio vedere cosa vado a fare. E infatti tante volte mi dicono, ma non ti annoi? Dico, calcola, l'ultima cosa che faccio è annoiarmi. Però racconto questa versione perché non voglio che si crei appunto questa idealizzazione in cui tu vuoi essere me. Preferisco essere un'amica. Cioè mi fa sentire meglio. Tu, Guglielmo? Allora, io pure sono uno che mentre vive le cose difficilmente tiro fuori il telefono. Molte di queste cose per fortuna non tiro fuori il telefono perché io faccio delle robe nerd per cui è meglio che me le tenga per me. Ma rigiro in realtà la riflessione. Io subisco tantissimo invece la cultura del dover fare e dover vivere col turbo. Vedere attorno a me persone che comprano case pazzesche, fanno viaggi assurdi, nel frattempo sono i CEO delle loro stesse aziende. Vedere questa gente che vive queste vite in quinta. Però magari lo fa anche veramente. No, no, magari lo fa anche veramente. Ma io penso, come fai a trovare tutto questo il tempo per raccontarmelo? Me lo chiedo perché io quando sto con l'acqua e vino alla fronte, ma io col cavolo che tiro fuori il telefono e dico, firmo la mia seconda casa. E nel frattempo guarda in camera. Il notaio. No, no, nel senso non c'ho questo tempo e non c'ho questa forza. Beh, c'è c'è un selfie se lo assicuro. Un selfie? Un film, no, un selfie con il notaio che mi lo faccio. Rogito, dai. Eh, meraviglioso. Rogito c'è. Però questa cosa in una società così tanto legata alla performance ti frega perché a me fa sempre sentire che non sto facendo abbastanza, che potrei fare di più. Ah, quello tantissimo. Per cui anzi io gioco a volte a un senso di colpa legato a quando prendo del tempo per me. Eh, secondo me questa cultura del tempo perso mette un'angoscia. Io 24 anni mi do, mi amici sposati. E il terzo figlio, dico, ma andola tirati fuori sti figli, quando hai iniziato se stai al terzo, ma come hai fatto? Ma dove l'hai trovato il marito? Cioè ti devi rilassare. E mi sento finita e a volte dico a mia mamma, non ho fatto niente. Le fai 24 anni, è normale. Anzi hai fatto pure troppo, cioè rilassati. Non abbiamo proprio la concezione di cosa significa veramente non aver fatto niente. Cioè dov'è il fallimento? Anche se avessi fatto tutt'altro stile di vita, una vita un po' più tranquilla perché è un fallimento quello. Se io sto bene, assolutamente no. Non pensi che questo sia proprio perché veniamo attaccati tutti i giorni? Sì, secondo me sì. Tu apri, sei sempre il meno fico. Cioè è impossibile vincere. Ma voi avete mai declinato un invito, inventato in una scusa o qualcosa e poi quindi non avete potuto postare niente perché sennò vi esgamavano? Credo che sia la base delle mie interazioni sociali. Cioè io paccavo, pacco tutt'ora e da lì raga le storie non esistono più e anzi ti dirò di più. Io una volta, sapendo che sarei uscito, ho fatto delle tipo foto a casa. Foto nel letto. Che poi postavo durante la... Però qua perché c'era... Cioè era proprio... Qua c'era una situazione un po' promiscua. Era doloso, volontario, c'erano tutte le aggravanti possibili e immaginabili. E t'hanno sgamato? No, no. E lo rifarei altre 200 volte. Che però l'hai fatto 150. Sì, 159, guarda. No, no, no. Veramente lo rifarei... Lo consiglio a tutti. E lo consiglio. Fate archivio, ragazzi. Che bello, guarda. Perché io sono fissato con la libertà. Cioè la bellezza di dire io stasera non ci sono. Ah, quella bellissima. Sto male, ragazzi. Io ve lo dirò. Io non ho un'influenza da sette anni. Perché? Ma i miei amici... Che dice a tutti che è l'influenza. I miei amici vengono col brutino. Cioè, pensano che sia cagionevole. In realtà, nulla di... Però hai un sacco di foto della tazza con la camomilla. Mamma mia. Quanti allori mi sono fatto. Ma io ho sempre... Ho sempre... Chiaramente sempre al lupo al lupo. Ho mentito molte volte perché in realtà soffro d'ansia. Quindi ogni volta invento malattie random perché magari non me la sento di andare in X posto. Covid finito da due anni. Dovevo andare a una roba di lavoro. Mi è venuto veramente il Covid. Ho detto che avevo il Covid. E chi ci ha creduto? Indovinate! Di nessuno! Assolutamente nessuno. E quindi sono stata quattro giorni che volevo postare storie. Ma avevo paura che pensassero che erano storie di copertura perché mentivo sul fatto che avevo il Covid. Questo comunque è come ragiona veramente il marciume. Questo è il marciume. E allora non ho postato niente. E' ancora peggio perché sembrava che io non avessi postato perché in realtà non stavo male. Invece io non stavo postando perché ho pure pensato... Certo! No è stato un incubo è stato un incubo perché poi una volta cioè se è vero non sai come gestire le storie. Sei sempre usato un modus operandi di un certo tipo. Corrotto. Usa il giusto nome. Corrotto. Dici ora come mi comporto... Lui è il guru di questa roba. E infatti questa cosa mi ha insegnato anche la via dell'onestà. Ecco. Che segue il più delle volte tranne quando sei proprio davanti a quel ragazzi cul de sac. Quando sei davanti al cul de sac... Eh ragazzi, termometro, jeans, arrivi a quel 39, 38... Ma che fai? Basta che lo squadri nella parte opposta. Ma io dalla parte opposta arrivo a 51. Cioè non ho quel polso. No io ce l'ho perfetto. 38. Ah cioè tu sai... 37 e 4. Io lo penso e faccio... Io invece vado così guarda. Cioè io vado... Posso? Certo. Cioè se tu... Il jeans, eh? Il jeans crea un po' di calore. Ma io metterlo sul termosifone no? No ma quello sì. Se faceva nell'anni 40 sta roba. Nella stufa nel mio piccolo falò con le pitture rupestri. Vestito da boscaiolo. No 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 no. Ma basta che lo giri oppure lo cammini. Ah questo è il contrario io non la sapevo. Lo giri è il contrario e la linea va dall'altra parte. Ma dai. Sì il mercurio è una cosa terribile. Il problema adesso sono i termometri invece elettrici. Eh come fai là? Cuscini. Cerco di creare dei calori enormi. No io vedo il Vesuvio sotto le coperte. Cioè letteralmente 70... Fon. Sì sì sì. Il Fon. Giovo un 37 e 6. Ok. No io 38 serenamente. L'ultimo trend di cui parliamo è quello delle parole senza filtri. Parlare sui social è molto diverso dal parlare offline. Non è detto in realtà. Forse non è neanche il vostro caso. Però voglio sapere se c'è una differenza e se uno si pone il problema. Io odio tutte le parole che non hanno filtri. Sì anch'io. A me piace e mi piaccio quando le mie parole hanno un filtro. Perché? Perché vuol dire che dietro le mie parole c'è una decisione di pronunciarle. Tu che ne pensi? Parliamo di linguaggio. Io sono una persona molto diretta. Utilizzo anche a volte parole che un po' così border. Un po' sì, un po' ops. Però ho un filtro. L'unico filtro che ho è quello dell'educazione. Nel senso sto parlando di qualcun altro. Ok. Allora il mio linguaggio deve essere appropriato alla persona di cui sto parlando. A non offenderla. Se devo parlare di qualcun altro mai mi sognerei di utilizzare le parole che uso per me. Perché io so che non mi offendo. Da sola. Esatto. Sì sì. Però con gli altri non mi permetterei mai poi mai di utilizzare parole offensive. E questo secondo me è molto importante. Perché a volte diciamo. Ma io sono così. Io sono anche autoironico. Con te fai come te pare. Con me organizzavi. Ma guarda io ti aggiungo anche un'altra cosa. A me. Io pure sono uno che spesso va molto diretto. Cioè io vado molto diretto. Io pianto per te. No addirittura. Non te le mando a dire. Ma è perché ho scelto di farlo. Non perché la mia bocca si apre e si chiude a caso. Perché non riesco a filtrare quello che dico. Il mio decidere di non mettere un filtro è sempre una decisione. Ok. E non credo che non si possa esprimere un parere contrastante. Credo che dobbiamo imparare un pochino a guidare. A dare delle navi migliori a quelli che sono i nostri contenuti. Ecco. Allora ragazzi. Vi leggo un paio di commenti fatti da alcuni utenti. Ad altre. Ok. Altre tante celebrity. E vi chiedo. Tiamo nell'orrore. Esatto. E vi chiedo se uno sconosciuto vi avesse fatto o detto queste cose. Voi come avreste reagito? Commentando un look che Billie Eilish ha indossato. agli Oscar. Un utente ha detto di lei. Sono stanco della sua merda. Allora se fossi stato Billie Eilish mi sarei fatto un bidet con questo commento. Sì anch'io probabilmente. Un shampoo. Cosa che era a fare? Un shampoo con balsamo. Sì sì. Manco balsamo. Ma essendo io forse un povero pianto e mi sarei chiesto perché cosa ho sbagliato. No io no. Questo tipo di commento cioè che cosa mi sono vestita male. Io sto agli Oscar flex. Sì capito. Questo tipo di commento l'avrei scrollato proprio in maniera. Poi ci sono altre cose che terapia. Però questa niente. Sapete lei però cosa ha fatto? Ha postato un video seduto sulla tazza del water. Non volevi fare i tuppi. Ha alzato il dito medio e ha salutato tutti quanti. Capito. Ha scritto. Io invece la sto facendo proprio ora. La cacca di qui sopra. Grande Billie. La tocca piano Billie è proprio... Un altro utente ha scritto. Scommetto che i piedi di Zendaya puzzano di patatine alla cipolla. Questo mi sarei presa male. Questa io mi sarei presa male. Che i tuoi sanno dei cipolle? No. Formaggio pieno. Però mi sarei presa male su questa cosa. Ma dai. Ma perché? Una ragazza ha fatto un video su una piattaforma dove diceva commentate con gli odori degli altri influencer, l'odore che pensate loro abbiano. C'erano tipo duemila commenti. E mi dicevano tipo miele, vaniglia. Quelli che hai letto tu. Zedto. Ma certi erano fuori di testa. Tipo X odora di sacco della spazzatura dopo una settimana. Brutto però. Io commentavo. Non è vero, lo conosco. Invece però fuma. Sembravo tipo la difesa. La giuria dell'odore. Io no ragazzi. Fermi. Cartellino rosso. E come avresti risposto? Io vi ho con grande serenità il mio odore. Mi avrebbe mezzo fatto ridere il fatto che una persona si chiedesse. Sì. Di che odore sono giudicato le più piani. Poi lei palesemente non ha la faccia da una. Ma da quando ti piensano di cipolla poi? Ma poi lei non c'ha la faccia da una coi piedi di cipolla o sbaglio. Però lei ha risposto. Davera Queen ha risposto togliendosi una delle sue costosissime scarpe dal tacco vertiginoso. E se l'ha portata al naso e poi ha detto no. Odorano di successo. Uh. Ah. Uh. Ah sai cosa che voglio chiedere? Ma invece magari sai sui social uno risponde nelle chat. Ah. In realtà sei serio. Io non ho mai riso. Quando ho scritto a. No io sì. E io però quando ritoriamente scrivo Irl. Che vuol dire in real life. Per dire sto ridendo. Davvero. Davvero. Non ho mai. Irl. Sì. Questo era Irl. Capito. Perché a volte fanno ridere. No no. Io se ridomando un vocale. Dove si sente che ridi. Sì. Ma ah ah ah. Mai fatto mentre ridiamo. No ma io ho proprio degli ah ah che vuol dire non so cosa risponde. Cioè mi devi mollare. Capito. La battuta del sì dell'amico che non è tanto amico che dice ci beh ah beh. Per me è lol. Quando io ho scritto lol. No lol. Che sto prendendo in giro lol. Eh sì dai. Tipo mio ragazzo non mi risponde al telefono scusa stavo lavorando. Lol. Eh. Certo. Sì sì. No no no. Stavi proprio lavorando. No no no. Per me il lol è ah ah ah. Perché sai? Sì sì. Ma proprio se io scrivo lol vuol dire che anzi mi hai veramente rovinato. No noi lol lo usiamo sarcasticamente. sarcasticamente. Allora ragazzi ma invece vi dico delle emoji. Voi mi dite come le usate. Ok. A proposito della. Ah certo vai vai. Del lol che poi ho visto un po' contrastanti. Mi piace. Due generazioni a confronto. Rinascimento. 87 e? 2000. 2000. Vai. Allora. Faccina è quella che c'è il sorriso ma al contrario. Ehm. Situazione triste. Tipo oddio si è rotta la macchina. Faccina. Come a dire pensate. Che gioia. Ehm. Ho voglia di fare sesso. Non credo che dica questo. Perché? Perché? Quella lì è un po' come dire già già. Ah ma Andrino. Prendi un po' tu ciò che desideri. Ok? Sì. Ok ok ok. Pensate. Io ho risposto onestamente. Due generazioni a confronto. Invece il pollice. Passivo aggressivo. Passivo aggressivo. Non è per niente ok. No no no. No no no. No il genitore è diverso. Però sempre tipo ragazzo. Eh no scusa perché devo uscire con una mia amica. Divertiti caro. Eh brutto. Manda una mail. Una back. Grazie quando arrivi. Sì sì sì. Totalmente. Mi date un passaggio? Credici. Sì sì. Bravo. È proprio. Invece l'ho sciolto? Le coccole. Ti dici una cosa carina quindi. Sì. No per me quello lì è che cringe. Cioè è presente quando tipo una cosa ti fa così male che tipo ti senti che ti perdi le forze. Perdi le forze per l'orrore. A me ogni volta la uso per un qualcosa di aggiorciato. Penso che non ci capiremmo comunque in chat. Mamma mia. Pensa gli mandi a facci la rivoltata. Cioè è un attimo che ti arriva sotto casa questo. Non ci sono dubbi. Allora dopo aver analizzato vari aspetti della vita che insomma social e via dicendo. dobbiamo fare una classifica. Quindi mettere in ordine i trend che abbiamo analizzati. Quelli più fake secondo voi. Quindi perfezione a tutti i costi. Lifestyle con il turbo. E parole senza filtri. Eh sì. Secondo me è quello che mostri. La prima quindi. Sì. Tra la prima e la seconda. Pure turbo. Lifestyle è peso. Sì. È peso. È vero. Però se siamo a novembre e tu mi continui a far vedere le foto che hai fatto a Mallorca. No sì è vero. O sono cinque mesi che stai a Mallorca. Sì sì. O fa la pierre. Non è niente da postare. O forse ci siamo. Ecco. Quello ci può arrivare. Mentre invece la cosa più fake è veramente secondo me legata al corpo. E soprattutto per le donne è anche peggio. Perché. Poveracce. Eh c'è una pressione che è fuori controllo. Ovvio che ti ritrovi a modificarti. Perché così non ti fai vedere. Non ti fai vedere se ti senti tagliata fuori. Anche se poi pure là. Secondo me non è obbligatorio averci i social. Sei libero di fare come ti pare. Quindi prima cosa che mettiamo abbiamo detto le foto. Seconda. Secondo me lifestyle. Lifestyle. Turbo. Turbo lifestyle. E terza. Le parole. Sì. Sì ma per un motivo. Perché secondo me. Il modo di parlare. Il modo di parlare. Perché secondo me coincide molto più con le tue opinioni e con chi tu sei. Ed è quella che più come nodo viene al pettine. Cioè prima o poi si scopre di che pasta sei fatto. Prima di salutarci però diamo a chi ci sta seguendo la nostra dritta. Cioè un consiglio per destreggiarsi tra i meandri di questa vita surreale irreale. Oh cielo. Ecco proviamo a buttar giù una frase ad effetto da scrivere sui social di Iliad. Fatti odiare per chi sei davvero. Non c'è fretta. In che senso. Secondo me è importante dire che non c'è così tanta fretta di dover dimostrare, fare le cose. Se vedi gli altri che vanno velocissimi, sono più fighi, sono più bravi. Non c'è tutta questa fretta. Cioè hai i tuoi tempi, vai con i tuoi tempi. Anche se ti sembra che gli altri corrano. Se tu stai camminando, continua a camminare. Quindi non c'è fretta da parentesi. Chi va piano va sano. Esatto. Chi va piano va sano e va sano. Questo l'ha aggiunto. Ma soprattutto. Credici. Credici sempre. È fondamentale. Sempre. Credicione dopo. Tu che sei a casa in questo momento. Ci devi credere. Quindi ragazzi essere autentici e condividere anche i momenti meno perfetti può essere liberatorio. Se lo fate, di sicuro, avete un like. Il nostro. Grazie Cecilia Cantarano. Grazie Guglielmo Scilla. È stato veramente bello. Grazie a te. E ricordate che i social non sempre sono come sembrano. Mentre Iliad è un mondo semplice dove sai sempre cosa aspettarti. Con zero costi nascosti e con prezzi delle offerte che non cambiano mai nel tempo. Entrare per credere. Ciao ragazzi. Credici è un podcast condotto da Niccolò Dedevitis, scritto da Paolo Bordigoni. Ideazione format Kiwi Part of Uniting. Produzione Martina Anoni e Laura Manca. Riprese e montaggio audio e video. Neverest. Una produzione One Podcast per Iliad. Entrare per credere. One Podcast.